oroscopo di sabato 11 aprile se siete in coppia amici dell'ariete in questo sabato pasquale riuscirete ad esprimere al meglio il vostro punto di vista con mercurio in congiunzione con il sole sarete anche molto concentrati e questa acutezza mentale vi farà stimolare dei progetti benefici per affari futuri toro se un problema vi assilla da tempo in questo sabato riuscirete a trovare la soluzione giusta saturno e urano vi sono complici solo in tranquillità potrete capire al meglio la vostra situazione amorosa in gran segreto gemelli dinamici e pieni di vitalità vivrete questo weekend di pasqua in modo spontaneo sapete quali sono le questioni che richiedono importanza e opererete positivamente sugli eventi rivoltandoli a vostro favore cancro la luna mette in risalto le vostre difficoltà a rivivere degli atteggiamenti che appartengono al passato rassicuranti per voi i transiti planetari vi spingono a progredire superando uno stato d'animo confuso e accettando le difficoltà vedendole come sfide cari amici del leone in questo sabato pasquale potrete contare sull'entrata di venere in ariete la quale vi assicura maggiore stabilità nel vivere le sensazioni amorose potrete così difendervi dal transito planetario un po capriccioso di marte e luna che vi procurerà piccole insicurezze vergine finalmente venere non è più in opposizione puntate tutto su un fine settimana indimenticabile in casa con il vostro partner una telefonata per i single a sorpresa sarà molto gradita bilancia amore ancora più intenso in questo sabato di pasqua grazie a marte che incrocia le sue energie con la luna affronterete le situazioni in modo realistico ottenendo successo grazie a una giusta intuizione scorpione i nodi lunari vi fanno annodare e sciogliere le esperienze amorose passate utile per progredire con maggiore consapevolezza potrete approfondire vari aspetti sentimentari partendo dal lato fisico e sfumando fino a quello spirituale sagittario anche per voi amici del sagittario il passaggio dell'astro venusiano in ariete sarà favoribile in questo sabato sarà come spazzare via le nubi che fino adesso hanno fuscato il vostro cielo accogliendo una nuova primavera dell'amore capricorno preparatevi a una quadratura di venere con il vostro saturno che sonderà il terreno amoroso a caccia di difficoltà in modo da eliminarle come le erbacce e gettare le radici per una futura unione più solida acquario piuttosto tenaci con il partner riuscirete comunque a dare un freno alla vostra aggressività bilanciando al meglio le sensazioni amorose in modo da non ferire la persona amata già da domani vivrete sensazioni amorose con maggiore serenità pesci venere vi lascia soli passando nell'ariete ma potrete contare sempre su una spiccata emotività intuitiva conferita dalla luna una vigilia di pasqua tutto sommato piacevole ideale per organizzare qualche giorno il vostro lavoro al meglio buon sabato e buona pasqua a tutti a domani